One Piece è ritornato con un capitolo stupendo, continuano i combattimenti da Hachinosu e Garp si trova a terra, ma prima di parlarne vi voglio ricordare di iscrivervi e di lasciare un like al video, vi ringrazio di cuore per il supporto che mi date, ma ora parliamo del capitolo 1087, il capitolo inizia nel quartier generale del G1 della marina dove vengono mostrate le navi usate da Garp e Okiji per i loro allenamenti, intanto a Hachinosu Garp sta mettendo in difficoltà i periodi della ciurma di Titcher e la loro nave se ne sta andando con i feriti e gli schiavi recuperati, i pirati fingiranno di avere ancora un ostaggio ma era una trappola per ferire Garp anche se lui non sembra risentirne, Okiji si è ripreso e partirà un pugno sia dal maestro che dall'allievo e verranno entrambi scalaventati in aria, Avalo per metterli in difficoltà vorrà distruggere la nave di Garp, siamo onesti sicuramente non era quello che ci aspettavamo ma è stato comunque un capitolo davvero meraviglioso, dico questo perché dopo tutto questo tempo ci aspettavamo un ritorno a The Gadd, ma ormai questa saga non è più dedicata solo a quest'isola ma in generale a tutto quello che la circonda Ora voglio rinfrescare la memoria di tutti visto che sono passate settimane dagli ultimi capitoli, quando ci fu introdotta York come traditrice venne detto che il giorno seguente tramite vari eventi avvenuti in ogni seguito all'altro il mondo intero avrebbe iniziato a tremare Visto che qua parla di vari avvenimenti, sicuramente la sconfitta di Love Kid, Kobe imprigionato e, arrivati a questo punto, anche i marini arrivati in suo soccorso potrebbero finire i loro prigionieri Ovviamente non dimentichiamoci di quello che succederà a The Gadd, soprattutto con l'arrivo di Sadun e Kizaru Praticamente alla fine di questa saga inizierà il conflitto mondiale che Oda ci ha tanto fatto aspettare che nelle sue interviste capitava che lo citasse Il rapporto maestro allievo di solito è molto importante in queste storie ed ovviamente il legame di Garp e Okiji non fa differenza Praticamente per Garp e Okiji è stato come un figlio o un nipote, visto che i suoi reali parenti avevano obiettivi completamente diversi dai suoi L'ha visto crescere sia nell'aspetto ma anche nella sua potenza e questo allenamento con le navi ne è una prova Alla fine di tutto non sarà per nulla facile dichiarare un vincitore, anche se loro due esternamente non sono mostrando il loro dispiacere, visto che sono su due fronti diversi Ma sicuramente in cuor loro non vorrebbero sfidarsi su una battaglia che vedrà solo uno dei due vincitore, mentre l'altro o muore o viene imprigionato Mi sa che è giunto il momento di parlare non solo delle bellissime tavole che ha questo capitolo, ma anche di Garp che ormai sembra sfinito Ormai ci da dire che non ha più l'età di una volta e non può accollarsi uno sconto dove lui combatte tutti i pirati della ciurma di Barba Nera Però bisogna dire la verità, per quanto sembri distrutto e non si sta subito alzando non sembra un uomo effettivamente sconfitto dalla vita E le sue parole sono un ottimo esempio, sarà la giustizia a vincere Beh diciamo di sì, vincerà la giustizia ma dubito che ci riusciranno in questo momento Io sono dell'idea che questa saga, come ho detto prima, rappresenterà l'inizio della fine Il mondo è stato sconvolto svariate volte e tutti questi ultimi avvenimenti rappresenteranno lo scossone finale prima dell'arrivo dei tamburi della liberazione Di conseguenza anche di Joy Boy, del One Piece e la fine di questo orribile governo mondiale E come ho detto all'inizio del video ci stiamo dimenticando dei poveri Mugiwara Ma arrivati a questo punto mi sa che Oda vuole prima terminare tutto quello che sta succedendo o è avvenuto fuori a Gadd E solo dopo mostrarci tutto quello che avverrà ai nostri cari pirati E chi lo sa come il maestro Ichirota vorrà terminare questa saga a dir poco spettacolare Prossima settimana avremo già alcune risposte sulla questione di Garp e ne riparleremo in un altro video Ma la tocca a voi Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo capitolo E alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti